Ooooooooh ACMILAN Ciao a tutti ragazzi Ho rimesso la camicina di ieri in post termine L'avevo buttata a lavare Poi ho detto no la rimetto per il video di oggi Perché tanto bene ha portato ieri E quindi l'ho rimessa su anche oggi Bentornati e benvenuti Nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo Ma che bello oggi ragazzi Ma che bello ma che bello Tutta la famiglia rossonera Tutti compatti tutti insieme tutti contenti Per il derby di ieri ci sono un po' di considerazioni da fare Questa mattina ho scritto sulla pagina i milanisti Perché ieri sera ovviamente come avrete visto tutti Dalle storie che ho postato sul mio instagram E insomma anche dalle foto che ho messo un po' Anche qua ho fatto uno shorts Anche qua su youtube ovviamente ero in diretta Ero a casa Milan quindi ero in diretta per fare il commento Una live reaction del derby E quindi non potevo scrivere Ho scritto stamattina due pensieri che secondo me vale proprio la pena Di fare insomma per la partita Per la partita di ieri Nel complesso Bene raga Bene bene Sono contento Sono soddisfatto del nostro Milan Bene 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 Allora dopo lascio tutti i ragionamenti per il derby Dopo la sigla Prima di andare avanti ragazzi Volevo leggervi questa cosa che mi ha fatto un po' sorridere Sapete che prima della dell'intro mi piace sempre dirvi Leggervi qualcosa della giornata che mi fa un po' ridere Arriva questa considerazione da Paolillo Che è un ex dirigente dell'Inter E dice In Milan Si ha giocatori fortissimi Però tutti hanno una certa età Ma come? Ma come? Paolillo! Paolillo! Ma come hanno una certa età? Il Milan ha la terza rosa più giovane d'Europa Nei top campionati europei Ma come? Hanno una certa età Sì abbiamo forse Ibra Abbiamo il bomber vero Oliviero bomber vero Che sicuramente non sono dei giocatori giovani Anche Kier Vabbè comunque Kier Non è neanche vecchio Però Dire che la rosa del Milan è una rosa vecchia Vuol dire che non so che cosa Che forse stavi guardando Paolillo magari stavi guardando la partita di qualche anno fa Non lo so raga È una considerazione che infatti l'ho messa sulla pagina dei milanisti E sotto in tanti mi avete commentato Lollo anch'io quando ho letto la notizia La prima cosa che ho pensato È stata quella Ma come? Ma come? E vabbè dai Allora ragazzi Poi dai adesso andiamo in sigla Prima vi volevo dire una cosa Raga siamo primi Primi con il derby degli youtuber Siamo primi in Italia Primi tendenze Italia E derby che è stata Magari poi farò un video particolare Per spiegarvi Cos'è successo nel derby degli youtuber Comunque siamo primi in Italia Come visualizzazioni Siamo primi in tendenza Quindi grazie veramente a tutte le persone Che hanno perso 10-15 minuti per andare a vedere il video Bene Ma visto che avete messo 20.000 like Al video delle youtuber Del derby delle youtuber Vi chiedo Magari non 20.000 Però di metterne almeno 6-700 Su questo video Per il derby Giocato invece dal Milan Molto contento ragazzi Non molto contento Cavolo Sono contento Il nostro Milan Adesso poi andiamo 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 a parlare Andiamo a parlare di tutto bene Con una considerazione Un po' Un po' Dettagliata Quindi vi chiedo La cortesia di lasciare Pollice su questo video Iscrizione al canale Qua sotto Manca poco Ragazzi Vi dico quanto siamo Perché manca veramente poco Per arrivare Ai 16.500 iscritti Ragazzi Siamo a 16.498 Quindi ne mancano due Per arrivare ai 16.500 Quindi iscrivetevi E chissà chi sarà tra di voi Il 16.500 iscritto Al canale 1 2 3 Sigla AC Milan Allora Volevo Prima della considerazione Ragazzi Siccome Oramai In questo In questi anni Abbiamo battuto Record su record La squadra di Pioli Ragazzi Pioli Hanno battuto Record su record Ma Volevo leggervi questo Perché il Milan Ieri Con la partita di ieri Ha battuto L'ennesimo record Mai così tanti punti Nella storia Nella storia dei tre punti Il Milan non aveva mai collezionato 32 punti su 36 A disposizione Non era mai successo Ragazzi Il Milan sta scrivendo la storia Quindi molto felice di questa cosa Allora Iniziamo a fare A fare delle considerazioni Vi leggo Che cosa ho scritto No raga sono senza occhiali Le ho lasciati di là Vabbè Vediamo Ve la leggo così Speriamo di non sbagliare a leggere Perché come sapete purtroppo Non ci vedo tanto bene senza occhiali Allora vi leggo Ciao amici e amiche Ieri ero in diretta da casa Milan Quello che vi stavo dicendo prima Quindi non sono riuscito a scrivervi i miei pensieri post partita E questa mattina voglio recuperare Un pareggio Un risultato che in ottica classifica va benissimo Anche perché il Napoli Come tutti sapete Ieri ha pareggiato nel pomeriggio Chi qui dentro non avrebbe firmato con il sangue A settembre Quindi quando è iniziato il campionato Per avere alla fine della seconda sosta del campionato Cioè quindi adesso 32 punti Con altri record su record battuti Quello che vi stavo dicendo prima La partita nel complesso È stata una partita strana Per parte del primo tempo Abbiamo giocato noi E meritavamo noi Ma ogni volta che l'Inter scendeva Purtroppo succedeva qualcosa Inclusi i due rigori Due rigori di cui Almeno il primo Per quanto mi riguarda Ma è una mia Mia considerazione personale Rimango un po' dubbioso Sul primo Perché secondo me c'è un fallo Che fa quello là In bianchinoglu Che fa su Frank Glielo fa prima lui E poi dopo va in aria E prende il rigore Invece il secondo Mi pare Quello di Balloture Mi pare sempre più netto Una piccola considerazione Su Billy Balloture Ballo ha la colpa Non tanto di farla scivolata Che poteva anche starci Ma di trovarsi posizionato Nel modo sbagliato Sulla loro ripartenza Quando tatticamente E quando proprio A livello di postura Tu ti trovi Nel posto sbagliato Al momento sbagliato E con il corpo direzionato E con il corpo direzionato Nel modo sbagliato È molto più facile Incorrere nell'errore Che ha fatto Balloture Perché? Perché se tu hai preparato Hai pre-preparato L'azione nella tua testa In un determinato modo Ovviamente chi fa Il pre-prepararsi L'azione nella sua testa Lo fanno i giocatori Top mondo Dopo andiamo a vedere Perché vuol dire Che prima capiscono La palla dove deve andare Balloture invece Questa cosa non la fa E purtroppo si trova Vi ripeto In posizione tattica sbagliata E posizione del corpo Cioè quindi proprio Come postura del corpo Sull'attacco dell'Inter Sbagliato Quindi è questo L'errore Non è tanto la scivolata Ma è l'errore Di posizionarsi Nel modo Nel modo sbagliato Poi In questa considerazione Del derby di ieri Come faccio A non parlarvi Di due giocatori Incredibili Ieri hanno fatto Una partita incredibile E mi riferisco A Masterclass Tomori E il nostro Tuono Tonali Partiamo da quest'ultimo Tonali Un vero e proprio Gladiatore A centrocampo Ad un certo punto Nel primo tempo Teneva in piedi La squadra Da solo Pressione Contrasti Posizione a centrocampo Recuperava i palloni Tutto completamente Da solo Tonali Sta diventando Un grandissimo Giocatore Ieri tra l'altro Il mio migliore in campo L'altro Mio migliore in campo Per la partita di ieri Dopo parliamo di Tatarusano L'altro Mio migliore in campo Per la partita di ieri È stato Masterclass Tomori Ho finito Per lui Le parole Sono oramai È quasi un anno Da quando è arrivato a Milanello Ho finito completamente Le parole per lui Gli elogi Per questo giocatore Un giocatore Di spessore internazionale Un giocatore Con grinta È un modo di fare Da vecchio Milan Da giocatore Vero Giocatore Da vecchio Milan E capitemi Per concludere Penso che tutti noi E questa è una considerazione totale Penso che tutti noi Dobbiamo essere fieri Di questa squadra Che nel bel mezzo Dei problemi Sta macinando Punti su punti E record su record Nel bel mezzo Dei problemi Con tutti gli infiniti problemi Che abbiamo avuto Dall'inizio campionato Il Milan Sta facendo I record di punti E sta facendo Sta battendo record Su record Pensate Ragazzi Pensate Quando le cose Inizieranno A girare bene Anche sul versante Infortuni E giocatori Indisponibili Il meglio Deve ancora Venire Forza Milan Sempre Questa era la mia La mia considerazione Ragazzi Questa era La mia considerazione Poi Sotto a questo Sotto a questo video Scusate Sotto a questo A questo post Che ho fatto Sulla pagina Milanisti Ho letto Tanti commenti Che sapete Che c'è sempre qualcuno Che magari Non è d'accordo Giustamente Ci mancherebbe Libero arbitrio E lì Siamo in democrazia Quindi è giusto Che tutti Non debbano essere Necessariamente D'accordo Con quello che scrivo Ho visto Che tanti Hanno commentato Non tantissimi Qualcuno ha commentato Scrivendovi Ma Lollo Pioli Ha sbagliato Completamente La formazione Volevo fare Una considerazione Anche su questa affermazione Non possiamo O scrivo Scrivo questa cosa Raga Però Non possiamo Fare una considerazione Sulla formazione Iniziale Del derby Di ieri sera Senza Tenere ben presente Che alcuni giocatori Sono arrivati Super cotti O mezzi infortunati Alla partita Di ieri Leao Per fare un esempio È arrivato Stanchissimo Saele Saleemakers Gino makers Il velista Che come abbiamo visto Ha finito la benzina Circa più o meno Tre partite fa Dopo averle giocate Tutte a cento All'ora Erebic Che è entrato E ha fatto Molto bene Ma comunque Arrivava da 12-15 giorni Di inattività Perché ovviamente Si era fatto male Alla caviglia Quindi io capisco Che per qualcuno Pioli ha sbagliato La formazione iniziale Ovviamente Virgolettato Ma se fosse partito Probabilmente Con gli undici Che hanno finito la gara A fine primo tempo Ne avrebbe comunque Dovuti cambiare Almeno tre Questi sono tutti I dati Che vanno presi In considerazione Sono tutte varianti Che vanno presi In considerazione Quando si dovrebbe fare Una valutazione Corretta Ultima cosa Che vi volevo dire Ragazzi È una provocazione Che qualcuno M'ha scritto E mi ha detto Ma se l'avesse parato Donna Rum Il rigore Il rigore Di Tataruzano Perché sapete Che c'è Velocemente Sapete che c'è Questa cosa Che hanno capito Ormai anche i sassi Per cui Qualsiasi cosa Che fa Donna Rum Ha una considerazione Mediatica Che è Sproporzionata Rispetto a Quello che comunque Ha fatto Ha fatto In passato Fa e farà Qualsiasi cosa fa Viene Viene spacciata Come se fosse La cosa migliore Del mondo Top mondo In qualsiasi cosa Che fa Quindi provate Solo a immaginare Questa è una provocazione Che hanno scritto a me La rigiro a voi Provate solo ad immaginare Che cosa avremmo letto Oggi Sulla gazzetta Corriere Da per tutto Se la parata Fatta Datata Vlad L'avesse fatta Donna Rum Se il Milan fosse ancora Adesso Donna Rum Fosse ancora nel Milan E l'avesse fatta Lo immaginate In prima pagina Probabilmente c'era lui Che andava a prendere la palla Basta ragazzi Super contento Super felice Della partita Di ieri Andiamo avanti Nessuno 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 si aspettava Questa parte Ci auguravamo tutti Questa partenza del Milan Ma nessuno Pensava Potessimo andare così bene Quindi felice Ragazzi Felice Contento Molto bene Niente Vi ringrazio di chiudere Questo video Lasciate Pollice in su Iscrizione al canale Se non lo avete ancora fatto Dai ragazzi Dai supportate Il vostro amico lollo Un saluto a tutti Forza Milan Dalla mia camicia Che ho riciclato Dai panni sporchi Un saluto a tutti Forza Milan E vada via E qui l'inter Ciao